Con un incontro sul tema Donare Vita, sabato 2 dicembre è stata inaugurata l'unità di raccolta sangue dell'Avis Comunale di Giungano. L'incontro si è tenuto presso la sede dell'Avis Comunale di Giungano in via San Giuseppe XVI ed hanno partecipato autorevoli personalità in campo medico e numerose associazioni di volontariato, testimoniando così tutti insieme il proprio consenso ed appoggio. All'evento ha preso parte anche sua eminenza Monsignor Ciro Miniero, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, accogliendo con entusiasmo l'invito del presidente dell'Avis di Giungano. Il centro Avis sarà aperto a tutti e si baserà su due principi fondamentali, quello della legalità e della trasparenza. Questa sezione Avis è stata creata da Ennio Francia nel 2006 dopo un percorso decennale in qualità di donatore volontario, fermamente convinto e pienamente consapevole del fatto che quel suo piccolo sacrificio potesse essere motivo di vita per altri. Un gesto preziosissimo quindi che, come allora, continua a ripetere quattro volte l'anno. Finalmente, il 27 settembre 2017, con la firma del decreto numero 171, la Giunta regionale della Campania ha consentito all'Avis di Giungano di riaprire e di poter quindi contribuire in modo tangibile a superire le carenze di sangue che affligge il Cilento ed il Sud in genere. L'Avis di Giungano, che oggi conta 1.078 associati, non solo ha riaperto, è stata promossa da semplice punto prelievo a unità di raccolta sangue. Ora i donatori possono recarsi direttamente presso la sede Avis senza recarsi in ospedale.